Il simulacro di Gesù Nazareno è arrivato sabato pomeriggio nella chiesa di San Paolo, dove vi resterà per una settimana prima di continuare il suo pellegrinaggio, sabato 24 febbraio a Sacro Cuore e sabato 2 marzo nella chiesetta di Santo Spirito. Il simulacro farà ritorno al collegio il prossimo 9 marzo. Torniamo a San Paolo dopo qualche anno, è la seconda volta che abbiamo il piacere di portare il simulacro di Gesù Nazareno in questa parrocchia e iniziamo il 2024 proprio da questa parrocchia. Anche quest'anno abbiamo in programma il torneo di pallavolo che si terrà il 20 di marzo nel Palacarnizzaro, è una domenica, l'unica mattina e speriamo anche quest'anno di organizzare una bella mattinata di festa con i giovani, di preghiera perché il torneo comunque alla base ha lo spirito di unione e di comunione anche tra i giovani, quindi ci sarà come al solito prima la benedizione e poi i ragazzi che per un paio d'ore si diverteranno a giocare in onore di Gesù Nazareno.